Lisa Zecchin, una delle più giovani giocatrici di Urbino, prima stagione in A1, dopo comunque un passato abbastanza rapido nelle prime categorie della massima serie di pallavolo femminile. Sì, diciamo che ho iniziato la mia carriera pallavolistica a Vicenza, che è un settore giovani spettacolare, degli allenatori che ci hanno seguito molto, siamo cresciute, avevamo la serie A davanti come modello e pian piano anch'io ci sono arrivata, ho fatto il mio esordio in A2 a 18 anni, è stata un'emozione grandissima. Poi, diciamo, sono scesa di categoria per motivi di studio e adesso che un po' con l'università mi sono sistemata, ho avuto questa occasione e l'ho sfruttata e sono tornata in Serie A. Certamente, iniziare presto, si potrebbe pensare che vuol dire bruciare le tappe, tu comunque sei ancora giovanissima e sei già in A1, come ti trovi ad Urbino? Urbino è fantastica, io mi trovo benissimo, mi trovo benissimo con le persone, sono veramente spettacolari, anche andare in centro e trovare i fedelissimi è proprio una gioia. Poi la città, non ne parliamo, è stupenda, è proprio un gioiellino, da casa mia apro la finestra e vedo le colline, è veramente spettacolare. Quindi comunque non ti manca Padova e la nebbia comunque della bassa? No, assolutamente, infatti gli anni scorsi ad esempio ho giocato a Vercelli e appena potevo tornavo a casa perché era veramente una disperazione. Quest'anno a Urbino diciamo che i miei, diciamo, se la prendono un po' perché torno a casa un po' meno e io qua sto bene. Cosa stai studiando Lisa? Io studio progettazione e gestione del turismo culturale che è un'interfacoltà tra lettere e economia, sono all'ultimo anno. Quindi trovarti ad Urbino ti agevola notevolmente comunque la possibilità di approfondire i tuoi studi? Ah beh, certo, sicuramente, a partire dal Palazzo Ducale che ho già visitato tre volte, entrare nello studiolo è veramente emozionantissimo anche perché alla cultura tengo molto e qui a Urbino sono riuscita a trovare il giusto equilibrio tra sport e cultura. Per il punto di vista sportivo invece le tue prospettive, perché qui comunque sei la seconda palleggiatrice, davanti hai una giocatrice di esperienza, comunque croata, molto alta, quindi è una garanzia anche a muro. Come ti trovi comunque a livello pallavolistico, sportivo? A livello pallavolistico veramente bene, col gruppo mi sono integrata subito bene. Le più anziane ci hanno accolte benissimo, di solito le più vecchiotte tendono a fare un po' di nonnismo, qui invece siamo un gruppo veramente compatto. Con Bernarda veramente mi sono trovata bene anche con lei, certo abbiamo due caratteristiche completamente diverse, lei chiaramente va meglio a muro, io cerco di crescere un po' in difesa giusto per compensare, magari per giocarmela un po' di più. Comunque adesso non ho ancora avuto occasione di provare il campo, però speriamo arrivi presto la mia occasione. In bocca al lupo Lisa. Crepi, grazie a voi. Chiara Negrini, capitano, grande capitano, super mamma volante, io la chiamo, bentornata ad Urbino, confermata dalla scorsa stagione, ma è un ritorno dal passato. Sì, confermata, ormai per me questo è il quarto anno che gioco in questa società, l'anno scorso sono rientrata dopo la gravidanza, è stata per me un'esperienza molto buona, perché comunque rientrare dopo un anno di stop è sempre abbastanza importante e quest'anno ho deciso di rimanere, la società mi ha riconfermato. Il tuo ruolo di capitano comunque non è un ruolo semplice, soprattutto perché ci sono molte giovani leve, ragazze che comunque hanno la prima esperienza in questa massima serie, incluse le straniere che comunque hanno accettato la sfida di Urbino di poter venire a giocare qua. Ma sì, sicuramente la squadra è giovane, nel senso che comunque ci sono molti atleti, come dicevi tu, che è il primo anno che giocano in Italia, che disputano questo campionato, per cui sicuramente ci vuole molta pazienza, ci vuole molta pazienza, molta propensione al lavoro. Ho molta fiducia in questa squadra, l'ho sempre detto e continuo a ribadirlo e credo che col giusto atteggiamento si possa piano piano arrivare ad avere un equilibrio che poi ci può portare a toglierci qualche soddisfazione. Sei sempre molto determinata, hai sempre molta voglia di farti avanti per portarti dietro comunque le ragazze più demotivate, più demoralizzate, perché comunque ogni incontro, ogni situazione ha i suoi alti e bassi. Le tue esperienze passate, quanto influiscono in questo atteggiamento? Sicuramente le esperienze passate formano un atleta, per cui sono fondamentali, credo che ogni persona arrivi a un certo tipo di livello, perché ha avuto determinate esperienze, quindi credo che ognuno di noi è così per il suo vissuto. Per cui prendo tesoro alcune stagioni fatte, alcuni consigli ricevuti da atleti molto forti e cerco di trasmetterle alla mia squadra. Senza voler male a nessun allenatore, a nessuna tua ex compagna di squadra, una giocatrice che hai nel cuore e un allenatore che comunque puoi portare maggiormente nel cuore? Ma una giocatrice che ho nel cuore, siamo state compagne tutte e due lo stesso anno, nel senso che ovviamente per me e Leonora lo bianco, noi abbiamo giocato insieme e siamo rimaste molto molto legate. E lo stesso anno ci ha allenato comunque Luciano Pedulla, che ovviamente sono le età giovani, no? Nel senso che quando hai 18 anni sicuramente ti rimangono nel cuore gli allenatori che poi ti aiutano a fare magari quel salto di qualità che serve per riuscire ad arrivare ad alti livelli. Quanto desidererai di continuare a giocare a pallavolo? Nel senso che non ti poni dei limiti? No, non mi pongo dei limiti. Io mi sento bene fisicamente, quindi non penso, giocherò fino a... finché sto bene mi vedrete nei campi, spero. Però se non mi pongo limiti, insomma, vediamo come va anno per anno, stagione per stagione. In questo momento mi sento bene, quindi perché no? Continuiamo. E in bocca al lupo per questa stagione. Crepi il lupo. Ciao. Auguri di buon Natale a tutti. Un bacione. E auguro a tutti un buon Natale e felice anno nuovo. Ciao. Tanti auguri di buon Natale a tutti.